Si chiamava Zita la 91enne deceduta negli scorsi giorni a Cusago. La sua auto è finita fuori carreggiata sulla strada che collega il paese a Baggio e per la donna non c'è stata speranza cordoglio in paese per la morte di Zita Forner. L'anziana infatti era molto conosciuta sul territorio in particolare per la sua generosità. Era tutor della colonia di gatti liberi di via Cusago a Milano ha raccontato il personale dell'ufficio tutela animali del comune di Cusago un dolore immenso, un tragico evento avvenuto a causa del terribile incidente che l'ha coinvolta. Una donna straordinaria dicono dal comune che ha dedicato la vita alla cura e alla tutela degli animali in particolare delle colonie di gatti liberi. Il cordoglio è stato espresso da tanti cittadini che la conoscevano personalmente o che ne avevano sentito parlare considerando proprio l'impegno e la generosità dell'anziana donna di 91 anni deceduta a causa di un incidente in auto.